buongiorno ragazze ciao a tutti e a tutte nuovo video vlog barra chiacchiericcio si lo so che devo registrare altri video ma al momento questo lo metto in modalità privata e lo pubblico al momento necessario questo adesso io registro un video vlog barra appunto chiacchiericcio e poi perché no registro video make up skin care si è vero potrei fare l'uno e l'altro ma preferisco fare un video a parte su questi video che ho proposto io cioè ho chiesto cosa volevate vedere sul mio canale no però alla fine ho deciso che registro più video blog se va bene ok cercherò di rientrare su 95 minuti non è anche sui 10 barra 15 minuti perché ho visto che vi stancate a guardare il video vero non dico chissà che cose interessanti però mi piace a registrare questi video un po come dite voi alla cazzo alla cazzo di cane però vabbè niente nulla ragazze nel frattempo oddio io non so perché balla questa cosa aspettate un attimo già che vi sistemo ok forse così non ballate non lo so è curiosa questa cosa che ballate no perché come voi sapete io ho il bastone nel selfie non siete incastrati il telefono incastrato nel bastone nel selfie ma questo bastone nel selfie mi stanno un po' ai nervi perché non tiene chissà quanto bene e quindi vabbè niente dettagli per dirvi a voi che questo telefono cioè non telefono il bastone non è il massimo tra l'altro è pure della cellulare si della cellulare line e quindi non è proprio chissà che io mi adatto potrei anche tenerlo a mano ma dopo un po' mi due la spalla quindi anche no è più comodo tenerlo anche se ballate pazienza anche se il telefono un po' ballerino ma almeno non mi faccio male alla spalla già anche perché ho il terrore che se mi cade il telefono da mano se mi scivola il telefono da mano si sa che chi può perché l'ho pagato 429 euro e quando mi è caduto l'ho dovuto pagare 149 euro per giustarlo sono soldi ragazzi credetemi quindi non se ne parla neanche che mi deve ricadere una seconda mi devo riscivolare da mano una seconda volta quindi meglio che sto calma con i soldini perché sono soldi spesi proprio vabbè perché se questo telefono comprava un telefono da 800 euro ci stavo un po' più attenta però anche con questo da 429 euro anche quelli sono soldi spesi un po' che potevo prendere un telefono più buono di questo tipo xiaomi o samsung ma ho preferito l'iphone perché ho capito che fa belle foto e bei video ma ragazzi non lo so vabbè non commento per quanto sono un po' testarda io nel spendere i soldi vabbè sono soldi miei ovviamente però potevo starci attenta a come dovevo spenderli vabbè ragazze comunque come state voi spero bene e niente ragazze praticamente oggi è sabato sì sì oggi è sabato ma non mi ricordo quante ne abbiamo visto che oggi è sabato aspettate un attimo sabato di cuoresima sì però ok aspettate un attimo che guardo l'altro telefono se lo trovo perché eccolo qua allora no non è sì oggi è 3 sabato 3 aprile e lì siamo a marzo questo calendario ma siamo matti aspettate perché voi direte 3 aprile c'è 3 marzo sì infatti adesso lo metto di qui ok se lo riesco ok vedete cosa sto facendo sto mettendo sto calendario aggiornandolo perché questo doveva essere aprile ok oggi abbiamo tre sabato 3 esattamente vedete sabato 3 si avvicina sì ok ed è san riccardo ok no per dirvi a voi che oggi già lo so che lo sapete che sabato 3 però niente tanto per parlare un po con voi cosa dirvi di bello ho guardato ieri su retta 4 il re dei re ovvero gesù il re dei re mi è piaciuto molto solo che poi mi sono appisolata perché ero già stanca e anzi che guardami sempre solo il tele televisione guardate anche un po di video ma va di video su youtube quindi vabbè musica al nastro scusate se non sono passata da voi ma a voi voglio più ascoltare musica sinceramente non me ne vogliate amare ma voglio ascoltarvi un po di musica perché a volte a volte diventa totalmente non dico sì mi voglio sfogare un po con voi nervosa un po nevruttica che la musica per me è terapia è rilassante non dico che voi non siete bravi con i vostri video però non mi fraintendete però voglio ascoltare un po di musica e di rilassarmi un po e quindi ho detto sì vabbè ci sono i video smr ma a questo punto musica al nastro e vai con la musica e ce l'ho fatta ascoltare un po di musica poi ovviamente nanna mi ha preso la cavamilla tisana quello che volete voi e poi mi ho fatto un po di di nanna ovvero sono andata a nanna e infatti mi vedete di nuovo fresca come una rosa stamattina chiede 3 aprile di sabato sì mi sto un po ancora sono un po assonnata non si direbbe ma è così ragazze mie sto guardando fuori che la giornata non è il massimo infatti ve lo faccio vedere che non è il massimo vedete no è così che vi brucia i pixel aspettate allora eccoci qua siccome che la giornata oggi non è il massimo si vedete tutte cose ma vabbè dettagli anche se si vede lo stendino però per dirvi che la giornata oggi non c'è sole come ieri e gli altri giorni di recente quindi no non mi piace per niente la giornata oggi quindi no no cosa vuol dire vuol dire che non è il massimo del del della giornata appunto se non c'è sole non c'è sole ho detto oggi farà bello farà brutto ho guardato aperto la finestra ed era una schifezza infatti ho valutato bene speriamo che come si dice qua in sardegna migliori la giornata e si riaffacci il sole speriamo altrimenti vabbè pazienza vedete com'è già e niente ora vi accollego la telecamera eccomi adesso ragazzi vado a truccarmi perché è ora di truccarsi e non ho voglia di sprecare tempo cioè non è che voi potete sprecare tempo che sto a dire ma vabbè oggi si sa che sono tutta strana vado a truccarmi e intanto mi lavo la faccia e poi ci vediamo dopo ok quindi a dopo la faccia non me lavo in diretta con voi perché tanto la skin care l'ho già fatta come si dice la skin care l'ho già fatta su instagram altri giorni se non erro non mi ricordo neanche forse sbaglio vabbè comunque niente adesso io mi sa che mi accingo a si sentite la 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 come si chiama la lavatrice perché c'è la lavatrice che sta lavando già ok a dopo tanto la mia skin care è sempre la solita quando faccio la maschera vi avviso ragazze a dopo eccomi qui ragazze dunque allora mi hanno fatto mi hanno fatto la faccia ve lo voglio dire ho fatto la doccia anche no perché l'ho già fatta ieri sera e l'ho fatta anche stamattina vabbè dettagli anche se vabbè mi avete già visto vestito e tutto quanto però adesso mi voglio truccare cioè non è che mi trucco definitivamente mi metto una penna di burro cacao e di questa terra qua questa terra qui della rimel che dè maxi bronzer vedete si c'è vabbè è rispecchiata ok così si vede sì penso di sì questa poi adesso mi metto un po' di questo dove ho messo il pennello non lo trovo qui metto un pochettino vabbè non fate a casa le occhiaie perché tanto oggi sono un po' svegliata come gli altri giorni non c'ho voglia di fare granché e di comunque vabbè non commento per quanto riguarda la voglia che ho di truccarmi in questi giorni sono più come si può dire non veramente ho più volontà di fare incentivata a fare video skin care che non solo make up ecco perché chissà perché sono così incentivata a fare skin care voi direte allora perché non la fai e da prima che ci stai chiedendo queste cose poi non le fai e beh avete ragione tanto questo video non lo faccio non lo pubblico subito lo pubblico appena ne voglia lo lascio nel telefono poi man mano che lo pubblico man mano che lo carico lo metto privato e innanzitutto faccio la skin care con voi non lo faccio su instagram ma prima di tutto in primis su su qua su youtube ecco qua bene bene attendete un attimo mettere il penne i pennelli a posto tanto poi le vado a lavare e un'altra cosa dai brosce al gusto mela gusto vabbè non commento come l'ho detto non credete di voler uscire oggi perché tanto sapete benissimo che anche se esco non posso cioè il cellule lo porto appresso ma non so se vloggerò perché il tempo che vi ho detto anzi vi ho fatto vedere pure come non so se riesco a vloggare vediamo sarà difficile che riesco a vloggare adesso guarda quanto ci sto mettendo perché boh allora intanto mi guardo allo specchio non è male questo bronzer non potevo mettere di più da un lato ne ho di più dall'altro di meno attendete che mi giusto un po' sono qui ragazze guardo allo specchio perché non ho combinato un bel niente praticamente doppigio un po' di più e li metto un po' così siamo nel giusto perché qua non è tanto in telecamera lo vedo che c'è un po' di meno e dal vivo chissà perché è di più boh io ne metto un po' di più ancora di più perché lo voglio giusto forse adesso è giusto speriamo c'è nel senso che era messo da una parte di meno e da un'altra di più comunque ci siamo capiti allora quasi quasi questo lo metto di qui perché se no vado e torno come non so cosa non voglio dire cosa perché mi fa un po' senso dirlo ci siamo capiti tanto lo metto qui nella come si chiama nell'annotazione del montaggio ok cosa posso sembrare quindi non lo dico perché mi fa senso e poi mi fa un po' di ansia di dirlo di no comment allora quanto siamo arrivati non lo so a quanto ah sì vabbè tanto poi monterò tutto non a computer con il iMovie da telefono perché a me piace iMovie cioè non ho Mac però mi piace sì ho Mac come telefonino come come sì appunto come telefonino ma non ho Mac come computer quindi per il momento prendetela per buono come monto i video ok e niente attendete un attimo che qua voglio accendere di più la luce oh questo è un po' migliore direi sì recentemente solo che così non si vede cosa ho combinato al viso vabbè niente e adesso cosa voglio fare nulla ragazzi io mi ho aggiustato un po' le sopraccigliucce allora lo aggiustate con questo pettino che già vedete da tempo questo qua e più ho utilizzato se la trovo sta matita qui sta matita della Rimmel Dark Brown 001 Dark Brown sì che l'ho messa all'incontrario vabbè poi della Rimmel che ha questo pettino qua che tanto lo uso poco e nulla questo non l'ho utilizzato perché ragazze ragazze mie non mandava quindi vabbè nulla oggi niente illuminante scusate ripeto niente illuminante perché nata voglia nata gana come si dice non ho voglia quindi niente voglia e non si mette il fissante cioè il gel per tenerlo un po' ferme se si affrosciano amen shalom pazienza basta ragazze il video non lo so quanto terminerà perché ora vado a vedere ah in letto non so se lo avete notato è fatto ecco perché non lo vedete disastrato come nei miei soliti video perché l'ho voluto rifare perché non mi ho connotato una cosa se faccio i video con disordine alle mie spalle si salvi chi può diventa una schifezza se invece faccio i video con tutto bello e l'ordine è pulito e ordinato come giusto che sia allora non lo so perché mi vedete più più mi vedete meglio come devo dirvelo non lo so neanche io ho notato questa differenza chissà perché non è che è una cosa nuova una scoperta l'acqua calda ma è basilare che si veda così ovvio che se uno è più ordinato e più tutto ti si vede meglio però così è così ho notato questa cosa questa differenza di questo fattore qua intanto ho un dolore allucinante qui non so mi sa che mi ha dato pure un'unghiata già vabbè niente tra un po' voglio lavare i pennelli quindi vedrete anche un video che lavare i pennelli non in questo ma in un altro a parte non lo so quando perché i pennelli mi piace lavarli guardate che non ho capito cosa c'è qua dentro ah altri piccoli come si può dire come dicono i siciliani si ci sono altri spiccioletti uhlala non è che sono ricca però è andato di fatto non ve li faccio vedere ma credetemi sulla parola allora cos'altro devo fare chiudere qua prima che perdo pezzi in questo porta po' scelto mio si così è se io siccome che ho avvisto di stare sempre con le pochette aperte un giorno mi cadrà qualcosa e mi dovrò mettere a piangere per un mese non scherzo però se io le chiudo forse è meglio perché ragazzi voi non avete idea del vizio che ho sempre di stare con le pochette mi dimentico sempre di tenerle chiuse il porta trucchi che questo qua è il mio preferito mi piace tanto non dico che anche questo non sia l'altro preferito ne ho tante di pochette ma le più che amo si vabbè c'è il prezzo attaccato perché l'ho acquistato dai cinesi questo però mi piace perché è troppo carino 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 anche questo non ne dà meno non so se sia questo più spazioso o questo si è questo più spazioso si direi così si e basta ragazzi non so se voglio mettere scarpe da tennis non so gli stivali mi sa che metta gli stivali però non ne ho idea no volevo dirvi innanzitutto se vi va di come si dice portarvi come a fare una passeggiata non lo so a che video passeggiate mi è stato richiesto su un sondaggio nei sondaggi che ho fatto di instagram mi hanno chiesto di fare anche un video passeggiate ma con questa giornata non lo so se ne vale la pena vediamo tanto meno è andata anche alla spesa che sa quando torna ma torna presto perché lei non è lenta con una lumaca come me che io sono lentissima a fare le cose ma la verità ve l'ho anche specificato più volte però almeno si perché anche una ragazza su youtube non so se era una iscritta o meno mi ha detto che lento sto video un po' lento è vero effetti sono lenta a fare i video nel senso che per registrare sono lentissima quindi va bene non commento basta ragazze se vi è piaciuto il video commentate commentate appunto e mettete un bel like ovviamente this is like chi se ne frega tanto non mi campo da quelli di sicuro ma dalla felicità che è viva in me iscrivetevi attivate la campanella e un bacio a tutte buona giornata perché adesso questo video lo carico però lo metto privato prima lo monto ovviamente cos'altro volevo dirvi non lo so neanche io cosa volevo dirvi ah si passate anche dall'altro mio canale che vi metterò nel link nell'info box il link nell'info box si nel link nell'info box per vedere se vi piace l'altro canale vabbè vediamo ve lo metto perché il mio si chiama melania make up beauty se non erro beauty box dale si box the hill vabbè quella cosa lì insomma quel cognome lì americano che ho comunque si dappertutto io metterò dappertutto insomma in ogni dove dell'info box metterò il canale mio secondo se volete seguirmi non vi commenterò sempre però commenterò con il mio canale il vostro ok ciao a presto un bacio